Hai notato la cartina appesa nella stazione di polizia? Sì, mi sembrava una mappa, ma non sono riuscita a mettere a fuoco i dettagli. Qualsiasi cosa fosse, il generale non voleva che la vedessimo. Ci sei andata abbastanza pesante col generale. Stavo semplicemente cercando di lusingare il suo Igor George. Oh no, no, è il suo tallone di Achille. Può darsi, ma il punto debole di quell'uomo non si trova certo nei piedi. Lobinot mi ha detto che la vostra era una conoscenza molto profonda. Ci siamo visti qualche volta per un pranzo o per un aperitivo, sai com'è. Quando tu tornasti negli Stati Uniti, mi sentivo terribilmente sola. Sola? Dovevi essere proprio disperata. Bastava fare una visitina allo zoo o al museo delle cere. L'uomo che abbiamo visto parlare col generale era Obie. Non l'hai riconosciuto? Ti ho detto che non l'ho mai incontrato. La persona che chiamai a Parigi sosteneva di essere Obie. Ma non aveva nulla a che vedere con l'uomo dell'ufficio di polizia. Magari il professore è davvero inoscente. Non credo. Non può essere soltanto una coincidenza il fatto che si trovi qui a Cuaramonte. Ti andrebbe un biscotto? Cuore di cane. Hai davvero mangiato quella roba, Georges? Certo, sono squisiti. Guarda qua. Santo cielo! Dove hai preso tutti quei soldi? Non è mio. Ho trovato questo estratto conto a casa di Obie. Dai un'occhiata qui. Un'eclissi di sole? Come mai questo improvviso interesse per l'astronomia? Ho trovato questo ritaglio a casa di Obie. Pare che la si possa vedere solo dall'America centrale. Dai un'occhiata qui, Nico. È disgustoso, Georges. Perché ti porti appresso una schifezza del genere? Non lo so, ma non riesco proprio a fare a meno di lui. Prova a dire di cosa si tratta. Coraggio. È acciaio battuto, proveniente con ogni probabilità dal comignolo di una vecchia stufa. Sì, diciamo pure di sì. Come faceva a saperlo? Mio nonno lavorava in una fonderia. Hai qualche valida ipotesi riguardo questa pietra? Penso che rappresenti un cane. Un cane messicano. Quindi sarebbe una pietra sacra dedicata al Chihuahua. Ma smettila. Professor Obie? Sì, chi è? Il mio nome è Stobart. George Stobart. Che cosa ci fa a Cuaramonte, professore? Sono alla ricerca di manufatti Maya. La storia del Centro America e il lavoro della mia vita. Riesce a identificare questa statua, professore? Oh, sì. Tezcatlipoca, il signore delle tenebri. Un dio centroamericano. Giusto. Una divinità suprema. Tezcatlipoca letteralmente significa specchio fumante. Guardi, vede lo specchio che tiene nella mano sinistra? I Maya credevano che, guardando in quello specchio, potesse vedere dentro il cuore delle persone. Era il vento che arrivava urlando una notte alla ricerca delle sue vittime. Le vittime loro miserificavano da migliare. Sacrifici umani. Uomini, donne, bambini, animali. Qualsiasi cosa sanguinasse. I gradini del suo tempio divennero rossi a causa del sangue. Secondo una leggenda Maya, un giorno ritornerà. Quel giorno spero di essere il più lontano possibile. Il nome di Karzak le ricorda qualcosa? Sì, lo conosco. Se non fosse per lui, non sarei qui. Cosa? Sta finanziando la mia spedizione. Vede questa etichetta? Sì, appartiene a una compagnia chiamata Condor. Perché? Ho seguito le tracce di quella compagnia fino qui a Quaramonte. Sa dove posso trovare gli uffici della Condor Transglobal? La compagnia non esiste più. È andata in bancarotta di recente. Ho le prove che lei è direttamente coinvolto con la Condor. Ricorrevo ai loro servizi per trasportare i manufatti alle gallerie di Parigi. Oltre a questo, non avevo altri tipi di rapporti con la compagnia, che, come ho già detto, non esiste più. Sa qualcosa riguardo l'eclissi, professore? Certamente. Non è la ragione per cui mi trovo qui a Quaramonte, ma non vedo l'ora di assistere a un simile spettacolo. Perché le interessa tanto l'eclissi, professore? Oh, è una pura curiosità da profani. La mia materia è la storia, non l'astronomia. Ma sono sempre stato affascinato dal movimento dei corpi celesti fin da ragazzino. Non mi perderei un'eclissi totale per niente al mondo. L'eclissi ha qualche significato particolare per lei, professore. Per me no, ma per gli antichi Maya sanciva la fine della Quinta Era. Allora dovremmo festeggiare. Ah, no. La fine di ogni era annuncia una distruzione su scala globale. La Quinta Era è l'ultima che culminerà con la totale distruzione della Terra. Ha mai assunto un maggiordomo o un domestico centroamericano? Non ho mai avuto nessun tipo di domestico, monsieur. Cosa sa lei del rapimento della mia fidanzata? Non capisco di cosa stia parlando. Era stata invitata presso la sua residenza a Parigi. Non certo da me. Sono lontano da casa da circa sette mesi. Mi sa dire qualcosa circa questa pietra? Dove l'ha presa? È un problema mio. Quanto vuole per cederla? Non è in vendita. Non è in vendita. Non è in vendita. Grazie.